Prima volta al premio Nonino, quali sono le sue sensazioni? Beh, non c'è tutta una grande emozione, poi devo dire un coinvolgimento, perché questo premio, questa giornata, ma anche la serata di ieri sera, sono estremamente, veramente emozionanti e assorbenti. La sensazione di una grande unità, di una famiglia molto unita, di una famiglia che mette grande passione nella sua attività, con grande entusiasmo e poi la capacità, 40 anni, 40 anni di premio, una cosa bellissima, la capacità e la lungimiranza di avere associato quattro premi che veramente celebrano e danno rilevanza alla cultura locale e al respiro internazionale. Avendo fatto delle scelte in passato veramente di grandissima intelligenza e di grandissima lungimiranza, come dicevo, perché sono state scelte persone che rappresentano la cultura nel mondo, la scienza nel mondo e che poi hanno avuto dei riconoscimenti successivi di grandissimo rilievo, tipo premi Nobel. Quindi devo dire che io sono veramente molto coinvolta e per me è una bellissima esperienza, sono contenta di essere qua e colgo l'occasione per fare veramente i complimenti alla famiglia Nonino, a queste donne meravigliose, donne, voglio sottolinearlo, che con una passione e una dedizione incredibile stanno dando veramente un messaggio di grande forza per questo paese che ne ha bisogno. Ha avuto modo di assaggiare la grappa? C'è qualcosa che le è rimasto impresso, che le è piaciuto particolarmente? Beh, ho assaggiato poco perché non sono una grande bevitrice, mi ha colpito che la grappa è stata servita anche come, diciamo, bevanda da pasto, insieme per esempio con uno splendido secondo. Ho assaggiato anche dei prodotti locali di grande qualità. Non so dire che cosa mi ha colpito, io la grappa essendo milanese la conoscevo, non questa grappa però. Ecco, mi ha colpito forse la raffinatezza che la famiglia Nonino ha saputo dare a un prodotto antico che è parte della cultura del nord.